Queer. Hell no, sir. Go right ahead, boys. Don't mind me. And onto the silver screen, the celluloid closet. Connoitivo a tutti e ben ritrovati in questa brevissima recensione di Into the 4K, poiché parliamo di un film documentario contenuto all'interno del Sonic Pictures Classics, il mega cofanettazzo di cui mi hanno fatto dono al compleanno l'anno scorso, quanto vi voglio bene, ragazzi, grazie, grazie ancora, sono a metà dell'opera. Me ne mancano meno di quanto pensassi di film da vedere, 3-4 me ne mancano, ho quasi finito. Dai, ci vorrà un annetto per finire tutto, ma ho quasi finito tutto. Comunque, il film di cui voglio parlare oggi è un buonissimo, buonissimo, veramente, mi è piaciuto il documentario che da noi è uscito solo in DVD e si chiama The Celluloid Closet, tratto dal libro di Vito Russo e in italiano è uscito in DVD per la CG, tanti, tanti anni fa. Quindi se siete curiosi di vederlo ve lo dovete recuperare se si trova ancora in DVD. Principalmente voglio stare corto perché è un documentario, non ha un audio d'eccellenza, insomma è solo un documentario, quindi sono solo interviste di persone fisse e spezzettoni di film vecchi, dei film di cui parlano nel film e quindi voglio essere brevissimo. Quindi, il sipario velato, perché c'è anche il sipario strappato, no, è il sipario velato, sì, velato, o mi sbaglio, no, è il sipario velato, scusatemi, mi sono già dimenticato il titolo italiano. Praticamente parla, tratto dal libro di Vito Russo, che è stato scritto negli anni 70 e che ha visto più di 400-500 film per scrivere quel libro, che poi anche è stato aggiornato fino al momento della sua scomparsa nel 1990, parla della figura del gay e della lesbica sin dall'inizio della cinematografia, proprio come era posto il suo personaggio di gay o lesbica in un film come elemento comico agli inizi. Cioè, vediamo la loro inclusione nei film, film dal cinema mutuo, ed è molto bello vedere, e anche triste a volte, come venivano presi solo per ridere, come si vestivano da donna, gli uomini solo per far fare una risata al pubblico, poi c'è stata un'evoluzione in cui l'omosessuale era solo visto come uno psicopatico e alla fine dei film doveva succedergli qualcosa, doveva morire perché era sbagliato, cioè non poteva rimanere in vita. È un documentario che ti fa aprire molto gli occhi, molto, e ci sono tante testimonianze da parte di Susan Sarandon, WP Goldberg per il colore viola, ma anche Tom Hanks, infatti si arriva, si parte dal cinema mutuo e si arriva fino a Filadelfia, 1993, Filadelfia 92, più o meno, e quindi è quello il periodo, poi si trattano anche a qualcuno piace caldo o anche Ben Hur, c'è anche, mi sembra, il produttore, lo sceneggiatore di Ben Hur, e l'ho visto sotto la febbre anche questo e qualcosa me la son persa, non c'è l'italiano, tutto in inglese, in cui diceva che Charlton Heston, sapeva che Charlton Heston era il suo personaggio, ma solo all'altro amico, il suo amico che poi diventa nemico lungo il corso del film, di cui sì, ho dimenticato il nome anche adesso, lo sapevo prima di schiacciare il record, lo sapevo, e a lui gli avevano detto guarda che lui è leggermente innamorato del personaggio di Charlton Heston, lui non lo sa, ma lo sai solo tu, e quindi andare a scoprire certi film isolandoli dal loro contesto e guardando solo le singole scene vi fa capire certe cose di film, di sottotrame, proprio di cose che non avevamo mai visto, mai capito di quel film, di quel personaggio, quindi un documentario che mi è piaciuto molto, assolutamente, io ve lo consiglio, però ve lo dovete ritrovare in DVD, c'è anche il libro di Vito Russo, dovrebbe essere tradotto anche in italiano, bello, bello, ve lo consiglio, però tanto ho detto che è una recensione, veri veri spidi, uniamo anche l'audio e il video, ragazzi, pellicola 35 mm, con grading, anche in Dolby Vision, e si tratta solo di personaggi fermi che parlano, quindi sì, c'è dettaglio, ma sono fermi, insomma, cosa possiamo aspettarci da un documentario così, no, sono interviste, quindi che cosa vogliamo di più, sono fermi, seduti, quindi quello è il dettaglio, non aspettatevi chissà cosa, e tutti i pezzi dei film che vengono inclusi all'interno di questo documentario, non aspettatevi di vedere la versione restaurata di quel film qui all'interno, ok, 4K Dolby Vision, perché hanno restaurato la pellicola vecchia, il negativo originale di quel documentario, però tutti i pezzi vecchi dei film che avevano utilizzato non erano restaurati, a qualcuno piace caldo, non ci sono i pezzettini della versione 4K della Kino Lorber, no, Ben Hur non ha la qualità di un 4K, ci sono anche delle scene di gioventù bruciata, non è la versione 4K che abbiamo noi, sono pezzi vecchi, pezzi della qualità che avevano quando hanno fatto il film, inizio anni 90, quindi quella è la qualità, e anche l'audio è in stereo, c'è della musica orchestrale di sottofondo che unisce il tutto, si sente bene in stereo, le interviste si sentono benissimo, chiaramente, traccia stereo, tutta davanti e nessuna sorpresa. Come extra, quindi uniamo anche gli extra, come extra troviamo il commento dei registi, troviamo 55 minuti di pezzi di interviste non utilizzate, un audio commento di Vito Russo al film, ma anche perché è strano, perché il film è uscito nel 95, Vito Russo è morto nel 90, mi sa che erano varie interviste durante la lavorazione del film, ok, le hanno unite e hanno fatto un audio commentary, è strano, cioè è morto nel 90, il film non era ancora uscito, mi ha fatto fare il documentale, il commento audio, strano. Comunque c'è anche un trailer e un'intervista a Vito Russo di 5 minuti in cui parla un po' brevemente della sua vita e del libro e della sua carriera e tutto qua, un documentario che vi consiglio ancora e noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K, ma ricordatevi che questo lo trovate solo all'interno del, è sparito, questo cofanetto non esiste più, del Sony Pictures Classics e non c'è l'italiano. Ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K, Sayonara a tutti e bye bye.